Questa è la terza tappa di Tuca Summer Tour, Andrea, Antonio e Flavio, qui è un divertimento passivo. Volevo soltanto salutare tutti gli amici del web, Gioventi Quattro, Gioventi 94. Ciao a tutti i capi, a tutti i capi, a tutti i capi, a tutti i capi, a tutti i capi che state a casa, noi ci buttiamo qui. Allora ci buttiamo noi. Ciao a tutti i capi.